atalantar viandanti oscuri di queste terre selvagge atalantar benvenuti a un video di ringraziamento ragazzi siamo arrivati a 500 e tantissimi siete veramente tanti siete senza se senza ma la mia seconda famiglia è bello che sia così e vi voglio ringraziare dal primo all'ultimo al primo iscritto a quello di 10 minuti fa a tutte le persone che hanno creduto nei miei contenuti a tutti gli amici in questo periodo mi hanno aiutato a sviluppare idee amici che mi hanno aiutato a livello tecnologico sapete benissimo chi siete io vi ringrazio veramente tanto e ringrazio anche te che stai guardando questo video non so se sei un iscritto o un utente che passa per la prima volta però ti ringrazio uguale e vi voglio dire che vi voglio bene veramente ti voglio bene che vorrei portare a cena fuori vorrei bermi una birra insieme e dirci due cavolate ma è questo è uno spazio virtuale ma mai dire mai nella vita mai dire mai magari se le cose continuano in un determinato modo chissà è infatti anche per questo che faccio questo video al raggiungimento di questo obiettivo ero prefissato di regalarvi qualcosa è un è un regalo che faccio a voi il server discord del canale ok server discord del canale è una realtà è aperto ed è pronto ad accogliervi nel momento in cui sto parlando trovate il link in descrizione ci tengo a precisare che il server discord sarà aperto a tutti quelli che ne vorranno fare parte chi è registrato alla community chi è iscritto chi ne ha sentito parlare siete tutti benvenuti per crescere farci quattro risale insieme creare un qualcosa di bello con delle persone di valore e sono sicuro che ci divertiremo da matti il server attualmente configurato per giocare con i canali vocali quindi ci conosceremo tutti quanti i canali locali ci sono anche i canali testuali ma non vi voglio dire altro perché lo scopriete nel momento in cui deciderete di gioinare siamo solo all'inizio del canale si parlerà di diablo 4 chiaramente siamo pronti per la stagione già c'è un evento in merito andatevelo a spizzare ma la community non si fermerà qui il server discord è aperto anche a tutte le persone che vorranno fare quattro chiacchiere le persone che sono appassionate di videogames e magari per far nascere una bella amicizia conoscere nuove persone ho sempre avuto questo desiderio in mente questa roba sta diventando veramente una realtà e vi voglio veramente un sacco di bene ci vediamo sul canale discord sarò presente in canale quest'oggi per accogliervi come si deve andiamo tutti di là a fare festa e facciamoci la prima multiplayerata veramente molto molto presto atalanta belli miei atalanta giorni lucenti ci aspettano parte che fa caldo della madonna ciao belli miei alveggia ciao 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 ciao